...i conti sarebbero stati necessari dei compagni di lavoro delle città. Motore e sorgone sono stati più grandi e messe a disposizione del magistrato e sostituto al procuratore Vittorio D'Armieri Lignano. Secondo le prime ricostruzioni della città municipale, la cosa a fargi precedenti sarebbe stata proprio l'alta velocità. Una folle corsa nella notte ti aspettano i miei giorni, in covetedità dei città. Tre... Almeno 3.000 amp18. Questo, secondo i tecnici dell'intervento... ...i stanno intendo a metter, e poi quando utilizzano il mot exposed, Grazie.